we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi ogni giorno alle 13 e 30 tutte le news di fortnite i leaks gli aggiornamenti le cose che riguardano ovviamente la season 2 di questo capitolo 2 di fortnite prima volevo come sempre ringraziare tutti i ragazzi che mi supportano utilizzando il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica del video delle 13 a 30 ma nel video di oggi ragazzi abbiamo un sacco di argomenti interessanti partendo proprio se riuscissimo non si vede mai non si vede perché perché partendo proprio dalle sfide di deadpool no scherzi a parte nel video di ieri ragazzi abbiamo visto quanto sia facile ottenere il prossimo spray oggi vi faccio vedere tutte le posizioni dei cimicianga ma parleremo anche dello starter pack disponibile tra poche ore e di una serie di leaks veramente veramente interessantissima sbagliata per tenervi sempre aggiornati volevo comunque farvi come sempre la domandina ci tengo tanto a leggere i vostri commenti proprio qua sotto la domandina di oggi è davvero semplicissima ma nel pass battaglia qual è il tuo agente preferito se ne sbloccano davvero tanti più livelliamo il pass battaglia alcuni interessanti alcuni un po meno qual è quello che ti piace più di tutti o i ragazzi non me ne vogliano gli altri ma a me mi da spiace veramente tantissimo il la skin finale la gente alla fine del pass battaglia è tanta tanta roba non vedo l'ora di raggiungerlo per poterlo ottenere ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito ragazzi a parlare di lui deadpool vi ricordo è stato spoilerato da lui stesso essere la skin segreta del battle pass poi ovviamente ci aspetteremo un sacco di cose inerenti a questo a questa collaborazione di fortnite x deadpool ovviamente non si limiterà semplicemente alla sola skin ma vi ricordo che questa settimana c'è la seconda coppia di sfide e ci chiedono di trovare tre cimicianga la prima delle tre delle due sfide la seconda ci chiederà di trovare il cartone del latte ma ancora non so la posizione per quello che riguarda invece i cimicianga ragazzi il primo lo troverete nella classica schermata di caricamento del pass battaglia e come vedete dove vi sto indicando lì sotto il tavolo ci sarà la possibilità di prenderlo proprio selezionandolo il secondo invece viene inserito nella schermata della personalizzazione di maya come vedete ragazzi la a metà schermo troverete nello scaffale il secondo da raccogliere il terzo invece viene inserito nella schermata dei potenziamenti in questo caso vediamo brutus che è il primo eroe che probabilmente potrà essere selezionato se lo vogliamo nella fazione degli spettri o in quella delle ombre il cimicianga si trova invece sulla sua scrivania e quindi molto semplicemente ricordo ancora che completando il secondo set di sfide di deadpool otterremo gratuitamente il suo spray quindi molto divertente vedere un deadpool stile cartone che cavalca un lama mascherato insomma ragazzi roba gratis ci piace e va bene così e andiamo avanti ragazzi invece con qualcosa di molto più interessante perché si comincia a parlare finalmente di nuove ltm per quanto riguarda questa seconda season del capitolo 2 ricordate che se andiamo nella sezione del pass battaglia dove si apre insomma se andiamo nella pre lobby di dove c'è poi il pass battaglia si apre appunto tutta la schermata con gli agenti e le varie opzioni selezionabili sembrerebbe che dove c'è il computer qualcosa ci dice a faction wars faction wars ltm è su è al lavoro praticamente è in lavorazione quindi sapremo qualcosa di più probabilmente nella patch 12.10 o 12.20 sappiamo che la stringa dedicata a questa ltm speciale dice scegli ve lo traduco scegli la tua alleanza la tua fazione e supportala in questa faction wars limited time mod insomma uno stile di gioco totalmente nuovo una ltm unica come potrebbe essere quella della fuga del precedente capitolo qualcosa che sarà veramente super interessante non vediamo l'ora ovviamente di avere delle informazioni aggiuntive ma andando avanti ragazzi sarà disponibile se già non lo è perché questo video registrato è ieri notte quindi non era ancora disponibili lo starter pack subito così secco molto fast all'inizio season 4 euro 99 per la skin iris che come vedete è corretta molto carina è come skin mi piace veramente tanto come starter pack ne hanno fatti di peggiori alla grande questo merita merita parecchio backpack innanzitutto e piccone oltre che ovviamente ai classici 600 v bucks quindi un'opzione aggiuntiva per prendere a 4 99 comunque una skin tutta particolare è sempre un bel po di v bucks io consiglio sempre a tutti di prenderlo tanto perché vale veramente la pena e andando avanti ragazzi con il prossimo argomento parliamo di qualcosa di interessante il carnevale ovviamente non passa inosservata la manifestazione l'evento anche su fortnite e ci sono delle stringhe di codice che dicono c'è un evento che si chiamerà carnival 2020 che inizierà il 26 febbraio quindi domani tu potrai ottenere degli spray gratis guardando gli stream di alcuni streamer su twitch e un altro spray gratis ottenendo un codice che alcuni stanno già cominciando in queste ore a dare che cosa si otterrà con il codice quale sarà lo spray lo spray si chiamerà embrace mask quindi basterà semplicemente seguire i social di alcuni streamer io ancora non so la lista non so neanche se in italia ci sia qualcuno che lo possa dare ed eccola qua ragazzi è cuddle mask chiamata poi in game mentre embrace mask è il nome che viene dato all'esterno del gioco uno spray che comunque mantiene e manterrà per sempre il ricordo dell'evento di carnevale 2020 mentre ieri abbiamo visto nello shop questa è un'immagine è un'immagine relativa a un post ufficiale di fortnite ci saranno due nuove skin per le armi due nuove coperture a tema carnevalesco la prima l'abbiamo vista ieri che era confetti carnival la seconda invece mi piace molto di più che si chiama carnival of flowers quindi il carnevale dei fiori anche questa sarà ovviamente disponibile nello shop e molto probabilmente al prezzo di 500 v bucks quindi un'altra cosa animata un'altra cosa da mettere nella collezione ed ecco ragazzi l'elenco di tutte e due gli spray che si otterranno il primo l'abbiamo già visto la maschera il secondo invece è il carnival beat che invece verrà ottenuto guardando per un tot di minuti la stream di qualcuno appena ho l'elenco ragazzi io ve lo pubblico sulla mia pagina instagram la trovate scrivendo xuder molto semplice comunque lo dirò anche in live voi seguitemi in diretta sulla piattaforma viola che sicuramente si parlerà anche di questo e prima di salutarci ragazzi volevo farvi vedere due cose interessantissime la prima si parla del security plans quindi piani di sicurezza sono stati trovati nei file di gioco queste immagini che sono in realtà nella sottocartella delle armi quindi non si capisce bene quale sia la loro funzionalità e quando ovviamente verranno rese pubbliche ma si pensa e o meglio si è capito che hanno un'associazione con quella schermata di caricamento una delle prime che si ottiene dal pass battaglia e ovviamente ragazzi l'ultima notizia il nuovo oggetto le mine di prossimità che quasi certamente entreranno di diritto a far parte del nostro battle royale probabilmente dalla patch 12.10 o 12.20 insomma ragazzi anche per oggi le news non mancano io me la sento di dire che avevo ragione fortnite sta tornando alla grande anzi è già tornato alla grande ma noi ancora forse non ce ne siamo resi conto io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi e i miei canali io sono in live sulla piattaforma viola ciao